I tifosi rossoneri impazziscono per le ultime notizie. Vi innamorerete di ciò che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie sul Milan. Matija Popovic sembrava destinato a raggiungere il Milan in trasferimento gratuito dal partizan Belgrado, ma pochi giorni dopo l'operazione è fallita del tutto. Come ricorda calciomercato.com, Popovic era in realtà a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa era iniziata due mesi fa ed era sul punto di raggiungere un accordo definitivo, prima che sorgesse un disaccordo con i suoi agenti. Secondo quanto riportato, le divergenze con l'entourage del talento serbo sono insanabili, soprattutto perché la dirigenza rossonera non ha gradito l'andamento degli ultimi giorni dal punto di vista della professionalità. Gli agenti hanno prima cercato di fare pressione sul club facendo arrivare il giocatore a Milano senza aver concordato tutto, e poi hanno chiesto commissioni troppo alte. Popovic voleva davvero trasferirsi a Milano e il consiglio direttivo è molto scontento di come è andata a finire. Jeffrey Moncada ha individuato nel ragazzo un grande talento per il futuro, con le qualità per diventare un top player. Ora si può solo parlare di ciò che sarebbe potuto essere e resta da vedere dove finirà Popovic, visto che è libero di firmare con un altro club, disposto a sopportare le azioni di chi lo rappresenta. Bene, ora tocca a voi, mi chiedo se sarebbe un buon acquisto per i Milan, fatemelo sapere nei commenti, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.